E parliamo della situazione a Panama ancora confusa. Il generale Noriega è sempre introvabile. Le forze di difesa panamensi stanno lasciando le postazioni militari per unirsi ai cosiddetti battaglioni della dignità e adottare la strategia della guerriglia urbana. Oggi anche la guarnigione David, una delle più importanti del paese, ha rinunciato a combattere contro le truppe statunitensi hissando la bandiera bianca. I soldati americani hanno sotto controllo non solo le ambasciate di Cuba, Nicaragua e Libia, dove potrebbe essersi difuggiata Noriega, ma anche molti punti strategici del paese. Violenti combattimenti continuano nelle città di Rio Hato e di Colón. Secondo fonti ufficiali, i morti da parte panamense dovrebbero essere 279 e 66 feriti, fatti prigionieri circa 1.500 militari di Noriega. Il nuovo presidente, Guilhermo Endara, ha decretato il coprifuoco notturno e ha detto che entro un mese dovrebbe prendere il pieno controllo della situazione. Tra i paesi dell'America Latina che non riconoscono il governo di Endara, ci sono giunti anche la Colombia, l'Uruguay e l'Honduras.